Come mai da parte del Comitato Provincia della Magna Egregia c'è questa grande attenzione in questo momento sugli ospedali AB e SPOC? L'attenzione è dovuta soprattutto al fatto che c'è una circolare ministeriale del Ministero della Salute del 27 gennaio che stabiliva che riguardo la patologia Covid questi pazienti dovevano essere trattati una volta acclarata comunque la patologia in oggetto all'interno di centri idea di secondo livello, pertanto bisognava fare riferimento agli ospedali di tipo AB relativamente alla cura della patologia. E' chiaro che in Calabria disponendo comunque allo Stato di soli 4 AB, di cui i 3 AB dei capoluoghi storici, nonché il Policlinico Universitario di Germaneto che è un AB un po' sui generis, poiché mancante comunque del pronto soccorso, è chiaro che da quelle che erano le disposizioni ministeriali bisognava fare comunque riferimento a quella tipologia di ospedali, nonostante comunque sembrerebbe che in Calabria si sia fatta quasi una corsa contro il tempo per cercare di allestire in qualche modo reparti non totalmente rispondenti a quelli che sono i criteri dettati dalla normativa, anche all'interno di reparti di ospedali SPOC, quindi con dei reparti un po' di fortuna da questo punto di vista. Il Comitato ritiene che nonostante la pandemia sia arrivata dopo le zone rosse non si è organizzato il sistema sanitario e quindi c'è ancora tanta confusione? Diciamo che l'organizzazione non l'è stata ottimale, partendo dal presupposto che comunque l'epidemia ha colpito prevalentemente se non maggiormente le zone del nord, quella che noi eravamo abituati a vedere come la migliore sanità europea piuttosto che la migliore sanità del mondo, di fatto è comunque crollata come le tessere di un domino, probabilmente tutto ciò potrebbe essere anche imputabile al fatto che da circa dieci anni a questa parte comunque si è data prelazione nella gestione della sanità a un piano che comunque ha avvantaggiato comunque le cliniche private a scapito delle strutture pubbliche. Il sovraffollamento che si è creato in questo mese e mezzo di pandemia Covid ha generato poi quell'ecatombe che probabilmente è anche maggiore rispetto a quelli che sono i numeri che abbiamo visto comunque sulle varie emittenti nazionali. Va anche detto che se malauratamente quel picco d'epidemia dovesse scendere alle nostre latitudini e in particolar modo a una regione come la Calabria che ormai da dieci anni è commissariata con una sanità ridotta all'omicino, il dramma potrebbe essere ancora maggiore.